Amici e amiche dell'Arechico, eccoci qua con un nuovo acquisto, anche se lo abbiamo già visto diverse volte da avversario in campo. Benvenuto a Faenza Giovanni Poggi. Grazie mille, grazie mille. Ciao a tutti. Romano, classe 97, pivot di 2,01 metri, negli ultimi stagioni in A2, lo scorso anno alla Sigeco Piacenza e due precedenti a Mantova. Noi però l'abbiamo visto contro, con Desio e Crema. Prima domanda Giovanni, ti chiedo, cosa sai di Faenza, cosa ti ricordi di queste partite? Mi ricordo sicuramente una partita difficile, perché Faenza è sempre stata una società ambiziosa, con squadre importanti, e mi ricordo che abbiamo anche perso malamente lì, chi è a Faenza, però ecco, mi ricordo il pubblico, davvero tanti tifosi a seguire e quindi sicuramente mi è rimasta impressa quella piazza e quel palazzetto. Ecco, vedendo proprio la cartina geografica, diciamo che ogni anno ci è sempre più avvicinata a Faenza, perché prima Mantova, poi Piacenza, adesso fino al tempo continui l'autostrada verso Faenza. Ti chiedo come è nata l'idea di venire a Faenza? Allora, come dicevo prima, Faenza è una società comunque nata di recente, mi sembra comunque nel 2006, ma è una società ambiziosa, seria, con cui si può lavorare bene. Ho parlato molto con il coach Serra e loro mi hanno spiegato un po' come sarà il lavoro settimanalmente e questo sicuramente mi ha spinto ad arrivare a Faenza, ma soprattutto comunque l'ambizione che ha la società di far bene ogni anno. Queste sono state le principali, tra virgolette, motivazioni. Poi comunque io vengo dalla 2 e mi è stato spiegato il tipo di lavoro e sicuramente è un lavoro non da Serie B, ma più da 2, quindi è una società davvero davvero seria e ambiziosa e professionale molto. Ecco, descrivendoti come giocatore, quali sono le tue caratteristiche? Io sono un giocatore comunque molto energico, molto grintoso, se possiamo definirla così. Sono un giocatore a cui piace dare il seguito, mettersi a disposizione per la squadra e sicuramente in fase offensiva ho una qualità magari nell'entrare a canestro, più che nel tiro, che quello c'è da lavorare. Però ecco, poi sono un ottimo difensore. Mi piace sbattermi in difesa, ecco. Perfetto, ecco. Cosa ti aspetti dalla nuova stagione? Sia a livello, diciamo, di squadra, ma sia anche personale? Ma a livello di squadra il più alto possibile. Si sperano a un inizio pre-campionato, si spera di arrivare sempre il più alto possibile. Comunque la squadra è molto buona. E a livello personale io onestamente sono venuto qui per crescere come ogni anno, cestisticamente parlando. E poi quello che viene, insomma. Però ecco, mi piace andare il più avanti possibile con la squadra, prima che magari pensare a me stesso. Perfetto. Giovanni, ancora benvenuto a Faenza. Ci vedremo ovviamente a breve nel raduno. Vedrai il pubblico, speriamo, numeroso, perché questo è quello che ci auguriamo. Ci manca, ci manca. Esatto. Come dico sempre, goditi a tutti voi nuovi giocatori o confermati, godetevi questi ultimi giorni perché poi si inizia a lavorare. Esatto, esattamente. Mi immagino, mi immagino. Il coach è già pronto, è già carico. Esatto. Come lo siamo noi, come lo siamo noi. Assolutamente. Ciao Giovanni, a presto. Grazie mille, ciao. Ciao.